Buonasera, ci stavamo domandando ma dove è finita quella bella bocconcina della Giordano facendo la storia su Instagram ho notato un'ombra sul labbro cioè devo andare a fare i baffi perché noi facciamo i baffi, facciamo le sopracce diciamo il pelo in più lo togliamo infatti ho chiamato per prenotare, mi ha risposto Anna Lisa che saluto dammi mi colonna ha detto a Rabella che cosa devi fare? ho detto guarda dovrei fare la tinta e poi c'è giusto le mie basette imprenditoriali perché giusto là soltanto c'ho i capelli bianchi, non è normale come Jonah Johnson di Spider-Man e poi vabbè sì una manicure poi vabbè ho un po' di pelo sulla faccia e anche sotto le ascelle ecco è morta la risata mi fa madonna vabbè sei troppo strana sì lo so sono una weirdo è normale che l'ora è cambiata non è più ora dicino sono alle 7.20 la Giordano sta ancora seduta a tavola c'è a chi piace c'è a chi piace a meno che non siamo ospitale va bene però solitamente almeno le 20-20.30 c'è a chi piace sai il baffo anzi noi quando ce li strappano ce li facciamo dare perché ce li portiamo non si sa mai dovessero servire una mia vecchissima estetista una volta siccome da vicino insomma noi non sa perché quando ci si guarda allo specchio non si vede bene questa cosa qua è perché non vuoi perché sono calate le diotrie quindi perciò non vediamo e io le disse lei mi disse vabbè andai a fare manicure ceretta dopodichè mi disse vabbè dobbiamo fare il baffetto e io le faccio no ma non c'è bisogno no vabbè la dobbiamo fare vabbè fai mi fido strappa ah con la lacrimuccia faccio c'era c'era ne un sort di tappet in disse lei molto proprio oxford comunque vabbè insomma ciao l'u ciao nani io sto parlando e condividendo vai io ho fatto sì abbiamo aperto insomma parlando di pelo di peli di peli vabbè del come si dice delle puntatine che si fanno dall'estetista e quindi si e poi tra parentesi e poi a noi è perché gli uomini che vanno dall'estetista non è quello non piace è bello che l'uomo si curi però l'uomo con questo sopracciglio geometrico fosse solamente le sopracciglie e quelli che praticamente si radono al suolo il davanti il di dietro le gambe anche i kiwi tutti i kiwi li depilano che poi povera ma sai che dolore là non lo so li strappano capito? no vabbè io sono rimasta diciamo al petto il portaghiandole la schiena la spalla le gambe tutte tutte in plumi loro là sotto praticamente non hanno più quella cosa buffa che sembra un naso e dei capelli no tolgono tutto e anche la al kiwi ritornano bimbi diventano delle uova sode scusciate poverini mi dispiace con tutto il rispetto però voi maschietti state messi proprio male ma vogliamo chiedere già che siamo così lo saluti ai nostri diciamo reggi audio ma vabbè che poi sono arrabbiata perché Tiziano cioè Tiziano con lei la reggia audio ha mollato la patatina a testa io non lo so non la potevi dare a me no la stessa io non lo so infatti lei è arrabbiata per quello non perché tu l'hai data a testa ma perché non la stia da via e non potevo che c'è dieta io dieta lei non è che lei deve godere deve far godere le sue papille gustatieri ma tu te li depili gli attributi ma no ma no no quindi sei sano tu sei sano cioè diciamo sei uomo sotto sono solo sopra se è uno che ci piace è vintage è l'uomo di altri tempi ma salutiamo anche la reggia video dove secondo me c'è tu vita Michele di Giuseppe non neanche eccole guardate guardate ma Gianluigi 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 sì sicuro Gianluigi vabbè ma ci stai chiedendo tu non ha mai il capello fuori posto ma sai cosa che sia Michele che Giuseppe sanno molto di uomini delle caverne loro sono così sono caverne però mi dispiace che è passi per Giuseppe però non è ma non è in modo offensivo capito ma poi Gianluigi è più giovane più guagnone quindi capito si tiene di più è più cura quindi mi stai dicendo che Michele e Giuseppe comunicano con la clava sicura me eh vabbè ma quelli fanno parto degli ominidi dalla zona quindi stanno penso allora con simpatia ragazzi sapete che vi voglio bene a faccia interna perché alcune volte me le fate girare devo dire Giuseppe perché Michele è bravo Michele è bravo anzi io opterei per un aumento no no ma 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 non so della stanza fa torna torna bugia sto scherzando non ti preoccupare niente ma praticamente come Paperoni Paperoni quando girava intorno al suo primo decino che faceva che faceva il solco nel deposito che bello Paperoni Paperoni io l'amavo molto Paperoni 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 ho fatto un po' di letture su Topolino insomma quando c'erano i giornaletti io ce li ho io ce li ho io non ce li ho ma no ma io non è che li collezionavo quando qualche mio cugino li portava insomma me li faceva lasciare a leggere ma niente a ruba e stavamo tutti a casellano scusami quella è una casa di tutti una casa comune no invece adesso li ho tirati fuori dalle scatole i Topolini o anche gli Almanacchi ho trovato anche un Candy 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 sì a un certo punto io ho ricordato l'altro giorno c'erano i giornaletti c'erano i giornaletti a un certo punto ebbe così tanto successo il cartone animato che in edicola cominciarono ad uscire settimanalmente anche i giornaletti cioè proprio il fumetto di Candy Candy mio padre iniziò a comperarmi anche Candy Candy e una mattina vabbè ci comperava vari giornaletti alla domenica a mio fratello a Vincenzo e praticamente una domenica facciamo questo summit io e Vincenzo in cameretta nostra oh ma tu lo vuoi ancora Topolino perché ci sentiamo più grandi Candy Candy era più da signorine e lui pure mi sa che cominciava a leggere le cose delle auto e gli stai chiedendo ma tu li vuoi ancora Topolino no non mi interessa tanto e tu vuoi ancora la pimpa no non mi piace ok andammo in camera papà ti dobbiamo parlare con tutta la pila di giornaletti allora io voglio solo Candy Candy e l'almanacco dei piccoli non voglio più la pimpa e Topolino anche Vincenzo non vuole più Topolino e vuole le macchie mio padre scoppiò a ridere che vide questi due che andarono lì ma era per non fargli spendere soldi sinceramente e mi sono pentita perché comunque c'è un vuoto nella collezione dei invece sempre ti ricordi quel giorno che ci sentimmo e che ero indaffarata nello svuotare le scatole di mio padre delle letture di papà che poi comprendevano anche quelle mie di Vincenzo ho trovato e li ho esposti cioè stanno esposti li ho messi insomma in libreria ho trovato dei giornaletti western però degli anni 60 70 ma tipo Tex Wheeler Tex Wheeler ce ne sono appa mio padre era proprio un gran fan di Tex Wheeler e di Martin Mister che piaceva anche a me ma ci stanno questi cosi che si chiamano super mici quelle robe si zagor zagor ce l'ho però la cosa fantastica è che ho dei numeri cioè tipo numero 1 numero 2 numero 3 di alcuni questi quasi qua sempre indiani quelle robe che piacevano un sacco ai maschi ma ho delle delle prime stampe porca paletta invece con Vincenzo abbiamo scoperto che ho scoperto da lui che lui aveva una collezione di Marvel e di DC Comics in giornali che la dolce Marisa ha buttato se doveva fare un abbraccio e quindi li avrà buttati nella fornace li ha buttati va bene insomma li abbiamo messo a parte di altri pezzi di vita nostra va bene allora se avete voglia di condividere anche voi dei pezzi di vita o le operazioni che fate dall'ST Tessa vai al posto tuo scusate sono arrabbiata col mio cagnolino oggi subito ha ringhiato perché si è arrabbiata naturalmente lei risponde se avete voglia di metterci a parte di vostre insomma esperienze dall'estetista farci capire quali bei posticcini andate a depilare 080 501 9998 se volete mandarci delle wow delle foto proprio su whatsapp non quella dei cocomerini dei kiwi depilati ma altre parti del corpo magari o un messaggio di testo che riguarda ricordi o che riguarda quel cavolo che volete oppure se invece volete dire per un qualsiasi fatto che non debba per forza parlare di estetisti e roba varia che ne so ma anche che cosa avete mangiato oggi che cosa mangerete domani si avvicina il weekend mettete che avete prenotato che ne so un weekend a Sofia e ve ne è stata a Shildam e noi rimarremo qua chiamatelo 080 501 4668 e come sempre metteteci al corrente così noi possiamo dare anche dei consigli metteteci al corrente bellissima questa io la segnerei approfittiamo visto che le vediamo in preview per salutare i nostri sponsor i nostri sponsor 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 soprattutto soprattutto io inizio con i supermercati Sigma e solo supermercati Sigma sta bene Sigma e io proseguo questo tuo reclam così vocale live in direct salutando le piatta uffa il noleggio piattaforme aeree go se avete bisogno di togliere un babbo natale che è rimasto incastrato un gattino sull'albero voi chiamate invece dei pompieri il noleggio delle piattaforme aeree vi arrampicate e risolvete il problem mi costerà un botto però eh vabbè ma i nostri telespettatori sono facoltosi metti che per esempio che ne so nel momento in cui sta salendo vostro marito c'era l'amante eh rispetto ai vigili del fuoco ovviamente rispetto ai vigili rispetto ai vigili e vabbè ma che c'entra ma sono due figure completamente diverse stavo dicendo mettete che per esempio ci avevate l'amante in casa stavendo vostro marito e quello rimane appeso al balcone e poi dobbiamo fare a quinto piano quindi arriva praticamente il noleggio in ascensore e batte forte il cuore e ve lo salva ve lo porta nel cestello e se prometto ma i punti di racco ma i punti di cani è chiaro che poi deve fare la sua guerra tu prometti e poi mantieni ti giuro amore è un amore eterno se non è sulle mani se non è amore me ne do l'inferno se dovesse chiamare ambra per piacere passa me la subito subito me la devi passare perché veglia l'avo veglia l'avo nel coro dell'andoniano insomma se la porti via ex factor va bene oggi è 25 dicembre ciao 25 perché 25 ricorda un po' il natale però ormai è passato un anno un anno un mese uve e siamo scirocchinei scirocchine vabbè cosa dice il nostro calendario guarda riesco a leggere anche da qui non credere mai Gigi D'Alessio non credere mai che un istante di felicità sia poco la felicità esiste solo sotto forma di attimi e io sono 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 d'accordo io no perché la felicità non esiste non è vero e quando accade è veramente un attimo non è che tu un giorno puoi essere tutto un giorno felice a me non è così allora secondo me secondo me e tu hai vabbè io rispetto assolutamente il tuo pensiero ed è sicuramente il mio pensiero è che invece esattamente come per l'amore per tutto è la vita anche quella è una scelta è uno stato mentale ed è uno stato mentale che possiamo scegliere a meno che non abbiamo dei disastri insomma non siamo circondate dai disastri per cui è un po' difficile stare a contrastarli però è sempre una scelta sì ma la felicità non è dice vabbè ma io sono una persona serena tranquilla mi ha contato questa è una parola della felicità e per me la felicità non può essere uno stato mentale cioè non dici no voglio essere felice tutti i giorni dalla mattina alla sera da lunedì alla domenica da gennaio non è possibile no ma dipende dalla tua visione delle cose cioè se tu scegli voglio dire se sei una persona voglio dire che non ha particolari disastri nella vita ok a cui insomma che ha una vita normale e può essere grata di avere delle cose positive o quantomeno non terribilmente negative tu puoi scegliere di essere grato di essere felice in linea con questa cosa qua e comunque la felicità è come un panino è come un bicchiere di vino con un panino la felicità ok ok ovviamente senza assumere stupefacenti senza che ne so ma sono una can senza niente è naturale perché anche questa è una scelta anche quella è una scelta non ho bisogno di addizionare il mio cervello al mio flusso chimico poi guardo il cane capisco che non sta al posto suo giusto però a me faceva re tu parlavi io guardavo perché lei ha scelto è stata messa a cuccia sotto una sedia perché ha fatto la monela ma lei ha scelto di stare vicino alla sedia quella che sta vicino a me è venuta perché si è messa in piedi qua e si dice prendimi no è perché vuole i biscottini ed è ritornata lì però sta vicino perché vuole i biscottini e ora ti faccio vedere che ti leggo proprio alla sedia e chiamate pure la protezione animale guardi i capelli una matta una matta va bene allora questa coppia di pazzerelle sapete cosa fa manda la pubblicità a rieccoci ma che cosa pensate voi voi intendo voi luigia signora luigia mi stai dando del voi ok allora manteniamo una certa distanza ok voi del ruolo del social media manager in un emittente insomma nella vita è fondamentale ma secondo te è fondamentale cioè funziona secondo me è lungo dipende tra un sonnellino e l'altro ma poi piace vabbè lasciamo perdere visto che l'abbiamo nominata prima ora la vediamo insieme alla sua socia wow oggi è giovedì e ma in onda i consigli di Tessa e Wendy amore ciao Wendy ciao Tessa che mi raccordi come hai detto la tua settimana bene grazie solita routine con mamma in giro per lo più ah venerdì sono andata dal parrucchiere e come al solito i risultati non sono gli stessi che ottieni tu che sembri una Kardashian mentre io sembro solo un trovatello un trovatello sì così dice mamma con le vocine inguietanti e poi ringara la dose mi chiama Remigio Remigio ma la tua bipede non è normale ora capisco un po' di cose io non so cosa voglia dire sembrare un baschietto ma immagino sia frustrante quindi mi dispiace per te non deve essere divertente e non è tutto mentre fa quelle vocine a ultrasuoni mi bullizza di baci dappertutto anche io ricevo un sacco di baci ma non solo umani non so se mi spiego sembra sottolineare che c'hai gli spasimandi mentre io c'ho soltanto gli spasimi comunque anche mia sorella Federica mi riempie di bacetti e ti infastidisce a volte ma mi rendo conto di essere irresistibile ma capisco che gli umani non sempre ragionano sul fatto che i cani hanno codici e modi di esprimersi diversi infatti nel linguaggio del corpo dei cani come dei gatti il bacio è qualcosa che non esiste per questo è molto probabile che alcuni di noi alle prime armi del rapporto con gli umani cerchino di scappare o si sentono intimiditi quando si avvicinano per baciarci io a lei volto ho solo paura che mi voglia mangiare inoltre se è un collega per rosetto timido o è appena stato adottato quando riceve un bacio umano si trasforma in un rospo no può rimanere immobile oppure nei casi peggiori iniziare a ringhiare ma è un atteggiamento di autodifesa per questo non va sgridato ma tranquillizzato esatto logicamente con il passare del tempo impariamo ad associare lo sbacciucchiamento umano alle dimostrazioni di affetto soprattutto se con i baci vengono dispensate coccole carezze espressioni di gioia e sensazioni positive e un sacco di bava umana sul pelo che umidità tutto chiaro? chiarissimo tu come sempre sei bella e brava e tu sei carina simpatica ma facevi prima a dire un tipo comunque a proposito di sbacciucchiamenti fammi andare a pettinare che ho un appuntamento con un set erilandese che ho inconosciuto dal veterinario e che fate? ma ci beviamo una ciotola al pub e poi stiamo a vedere e tu che fai? ma fisso per un po' la parete e rifletto sulle mie scelte di vita ah elettrizzante vabbè vado ciao Tessa ciao amici che umiliazione allora sono bellissime ma oggi odio un po' Tessa non ci posso fare niente vabbè capita nel rapporto madre bipede figlia quadrupede è così comunque grazie alla splendida Federica Semplice per il doppiaggio della sua Wendy e per il montaggio delle immagini grazie anche alla Nani Giordano che rappresenta allora io guardavo stavo guardando praticamente ovviamente il video è la stessa postura di Tessa adesso che è stata praticamente rimproverata e vero male quella quindi lei ripeto descrive benissimo il suo caglio descrive anche la mia ovviamente la conosce però sono dite né Tessa è così né Wendy è così nel suo nella sua immaginario nella sua fantasia le nostre cagnoline sono così e lei le descrive in quel modo e va bene cos'amma creep I'm a weirdo senti mi chiamate il 118 vediamo un po' se risolviamo questo problema facciamo portare qualche vanno io volevo fare la rockstar no è inutile che facciamo le presentatrici le attrici le condottrici non lo so senti dove possiamo andare il curriculum per fare la rockstar a metà la strada ah 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 andrà via sparano ma vabbè però se poi non vengono i vigili poi ti cacci vabbè gli raccontiamo un pari di partellette dai dai su noi siamo poliedriche dai 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 quel vento la fotografia poi è finito tutto però non pagano il problema è quello è un vicio comune fuori dei passanti se ti vogliono lasciare un centesimo non lo so dipende chissà se i nostri amici telespettatori lo fanno noi lasciamo la monetina cioè i cinquecentesimi naturalmente perché pure noi siamo artisti però di tanto in tanto è una cosa carina da fare un tempo fa non andavo in centro da una vita a piedi ero su via sparano e stava suonando una violinista pazzesca cioè una violinista con la sua cassa e vai che suonava io così mascellone a terra ma brava 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 era così brava che mi sono vergognata ad avvicinarmi a dare il soldo pensa vabbè sì no il fatto di lasciare diciamo un soldino lo fa molto spesso mio marito perché un signore non l'abbiamo salutato oggi praticamente sempre ciao Federico Semplice ciao Fredro lo fa praticamente sempre io lo faccio un po' meno ma non perché perché non lo voglia perché non dà 100 euro no 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 perché siccome alcune volte mi sono anzi è successo proprio una volta che mi sono sentita proprio presa in giro perché c'era questa zingarella sotto passaggio del ex royal adesso dove c'è l'anche cinema no che voleva simulare di avere in braccio questo bambino in realtà era un bambolotto io comunque gli ho dato lo spicciolino però era un bambolotto e quindi praticamente uno può dire vabbè ma per colpa di uno partiscono gli altri no e allora mi deve dare proprio fiducia affinché io possa lasciare qualcosa che non è semplicemente non deve essere per forza i soldi perché può capitare che entro nel bar compro un cornetto e posso lasciarlo perché poi sono persone che comunque voglio dire se stanno lì a chiedere la carità significa che poi alla fine non possono proprio mangiare quindi sei anche contento se alla fine ho detto un cornetto poteva essere una qualsiasi cosa avessi visto il bambolotto sono un po' titubante se io avessi visto il bambolotto avrei tolto la monetina e dato un tuzzo no vabbè figurati però ci sono un po' rimasto male è un altro sempre che fa parte della stessa categoria sì categoria era un uomo che invece andava camminando con questa stampella proprio che dici ma no ma cioè come le macchine se ne andavano cioè lui praticamente noi l'abbiamo visto camminare normale con la stampella che se la portava così come una persona assolutamente normale che può camminare sulle sue gambe e quindi sai queste cose poi mi fanno fare retromarcia diciamo un po' così dovevi fare retromarcia su di lui così li ha soppavere la gamba e la stampella la usava davvero però sai come erano le leggi italiane poi aveva purpnev quindi in realtà è meglio di no invece quando ero proprio ragazzetta andavo all'università praticamente c'era una zingarella vicino all'ateneo e io le diedi degli spiccioli non volevo niente questa simile spiccioli insomma le diedi il corrispettivo del mio pranzo in pratica rimasi senza soldi la solita la vanillietta giordano questa qua si prende i soldi mi dice vuole la lettura della mamma io io no 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 mi guarda e mi fa tu morirai a 28 anni e la dove oh me le tuoi rire no me le scappai e sono stata convinta che a 28 anni sarei morta come Candy Candy che vede ti ricordi la lascerà del campanile quando vede che Anthony o fanno a lei la lettura di carta non ricordo lei ha questa carta nefanda che non so qual è dei tarocchi che indica la morte di qualcuno vicino e poi muore Anthony capito mi immaginavo la con i codini però diciamo che i 28 anni da qualche mese li abbiamo superati quindi tutto ha giusto una mancia sì è chiaro qualche settimana non è aza non vi credete voi non la vedete così perché in realtà sembra più grande dell'età che ha però come capita le persone ci sono quelle persone che non dimostrano di spazio ti facciamo più piccola invece lei è un po' più grande però quello è 28 settimane mi hanno sempre dato 20 anni di più però giusto vabbè ma perché così è un vizio di forma non portano gli occhiali non li porto bene insomma non li porto bene si può dire non perché ogni tanto della peluria sul viso è quello il punto ma tu ti rendi conto che se dici alle persone quella peluria sul viso penseranno che poi ti vai a fare la luce pulzata perché che te ne va parliamo di due baffette in croce che noi donne in generale il mustazzo lo mustazzo che cresco e quindi noi ce l'abbiamo ma non è che siamo a fare la barba la pelle la pelle la sopracciglia quelli ce li ho però ce li ho il tappetino le sopracciglie si e vabbè ma quelli poi si tirano ma non non le strisce pedonali capi no tirano con la striscia e fanno il tappetino capisci c'è proprio la peluria io la vedo perché me lo mettono in contronuce io vedo tutti i stipeli morti lei si le mosce da su e vabbè comunque in anche in anche in depil va bene va bene così ok bene nella zona pubblica devo dire che a me non piace il depil estremo ecco non mi piace no no l'alto taglio sbarazzino ma già si si che schifo è vero perché tutti fanno la ceretta tutti e se no l'estetista che cavolo stanno a fare avrebbero chiuso già tra l'altro a pensarci lavoro redditizio cioè quando devi prenotare l'estetista tu devi prenotare il mese prima almeno un mese prima cioè è follia cioè follia buon per loro però che capperi cioè non esiste più l'urgenza ma questo va parte della società del bene vogliamo essere tutte belle alte fighe quindi anche laddove la natura non è stata molto buona vabbè diceva il mio filo hai usato tre aggettivi importanti però la mia estetista è differente Francesca Romito tu trovi sempre il tempo per me ma do e va bene è proprio su Francesca Romito che saluto pure io in realtà salutiamo il nostro pubblico grazie per essere stati anche oggi con noi andate di fronte allo specchio andate a controllare un attimo la peluria prendete un appuntamento con chi volete voi anche con un estetista in gas che se ne frega ma anche con vostra figlia anche un cugino dice ma è vero ma te la faccio io non faccio nulla che va lì tu mi strassi tutta la peli e vi salutiamo ci vediamo domani buona cena sull'onda del pelo prendiamocela comica con l'ospite prendiamocela comica mi piace prendiamocela comica con l'ospite mi piace ti cuoto ciao 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 Grazie.